buongiorno bella gente come andiamo tutto bene ma mi fa piacere stamattina una bella docina ragazzi perché l'igiene è una cosa importante fortunatamente questo vecchio nonno ha tutti i comfort come potete vedere mi sono acceso il boiler prima ho acceso la truma e la truma vent perché c'erano 16 gradi nel camper mi piace fare la doccia quando ce n'è 22 non è male ti consumi boh quei 30 50 centesimi di gas forse meno una bella doccia ho messo via la roba da lavare sono qui sempre in provincia di verdola sua gattezza è lì che dorme la vedete come bella sua gattezza vediamo se è un bel giorno per salutarvi mamma no dorme e basta e non gliene frega niente non c'è voglia di aprire gli occhi per nessuno mi ha dato un mosso ieri porco cane era lì a coccolare io delicatamente sono andato lì gli ho fatto una carezzina guarda qua non so se si riesce a vedere cioè mi ha proprio infilzato dentro un dente dentro la mano tac probabilmente non lo so era infastidita non voleva la toccarsi poi io ho mosso le chiavi e lei fumo ha fatto uno scatto con le fauci chiuse tac mi ha fatto un taglietto da 10 mm vabbè non succede niente dai ma adesso devo trovare qualcosa da fare di extra che già sto facendo due cose già sto facendo i video su youtube che ho qualche soldino arrivato e sto facendo un'altra cosa sempre con i video ma lì ancora niente ma io ci credo continuo a crederci e continuo ad andare avanti continuo ad andare avanti perché giustamente non puoi cedere se tu cedi ti metti in una condizione di aver già perso ancora prima di aver iniziato a lottare teoricamente dovremmo sempre lottare in pratica si vive si lotta quando è necessario chi lo sa però che palle sempre lottare anche gli animali lottano però forse è proprio una roba planetaria non può essere oggi per la prima volta ho attaccato anche la truma vent perché la truma da sola non basta ho acceso un po' il nonno che di mattina non c'è tanto sole ricevi un ampere e mezzo un ampere due un ampere tre invece col sole a picco guardate che col sole a picco si caricano bene le batterie ma devo riuscire a capire una cosa perché secondo me le due batterie che ho e forse ne avevo parlato anche con altri sono collegate tipo per dare non mi viene mai il nome se inserio in parallelo forse in parallelo nel senso che entrambe sono collegate per dare un maggiore amperaggio dei 12 volt perché ho notato una cosa strana mi si scarica quando attacco la fiamma mi si scarica la batteria motore perché io ho il monitor che mi fa vedere in tempo reale quale batteria si scarica di più dovrebbe scaricarsi quella dei servizi tra poco mi sposterò andrò in una zona dove c'è un'area di scarico quella che frequento quando sono a Bergamo e poi da lì comincerò a fare della ricerca devo fare anche spesa mi do un bacione ragazzi a presto a presto Grazie.